La Tacheta è un'azienda fortemente impegnata nell'ambito delle malattie rare, sia in termini di ricerca e sviluppo, sia in termini di sostegno ai pazienti a 360 gradi. Il sostegno ad Uniamo è per noi la testimonianza di una vicinanza importante ai pazienti affetti da malattie rare e ai loro familiari e ai loro caregiver. E vogliamo essere, vogliamo costruire giorno per giorno questa alleanza con Uniamo per essere al loro fianco, per far sentire la voce dei pazienti e anche per sedere accanto alle istituzioni mostrando quelle che sono le soluzioni importanti per migliorare la loro qualità di vita e consentire loro l'accesso ai farmaci e alle cure. Quindi diciamo che l'augurio che facciamo ad Uniamo e a tutti i pazienti è che questo faro che si sta accendendo nel mese delle malattie rare risplenda più a lungo possibile e che si possano raggiungere i risultati che tutti noi speriamo per questi pazienti.